Cosa va di più? Cosa va la vittoria. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. 3-5-2 il loro modulo iniziale con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Qui chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa a secondo degli eventi del match. Questo è l'undici con cui parte il Bologna in questo match. 4-3-3 il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare di uno contro uno. Occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Daniel Maldini. Riceve Daniel Maldini. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Daniel Maldini. Riceve Daniel Maldini. È in buona posizione. Vanno a girare il pallone molto bene. Azione prolungata che si chiude qui. Orsolini. A domestica nonostante il pressing. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Continua ad avanzare. Continua ad avanzare. Hanno difeso bene. Qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. prova a superare la difesa con questo pallone. Prova a superare la difesa con questo pallone. guadagna metri verso l'area. Guadagna metri verso l'area. Pericolo sventato. Molto buono qui il lavoro difensivo. Può sfruttare lo spazio lateralmente. intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. avanza con il pallone. Poteva certamente sfruttare meglio questa situazione. Finisce in questo istante la prima metà di gara. Vedremo cosa ci offrirà al secondo tempo. Secondo tempo che ha cominciato. Risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45. Grande equilibrio fin qui in campo. Il Bologna fa circolare molto bene il pallone qui. Ingenuità e pallone regalato. Guadagna metri. Ottima chiusura difensiva. Grande tackle difensivo. Hanno la possibilità della ripartenza. Hanno perso palla. E' sfumato il contropiede. avanza, palla al piede. Avvia nell'uno contro uno. Contrasto efficace. Palla in calcio d'angolo. Cambi da una parte e dall'altra. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner. E l'occasione va sfruttata. Come sottolineato anche dai tifosi. Optano per il tocco corto. Legge bene. Qui è una traiettoria interessante. Possono passare in vantaggio. Azione che sfuma. Grande lavoro della difesa. Premo Freuler. Partono in contropiede. Ha una grossa chance qui. Attenzione. Eccolo il primo gol. Che può indirizzare il match dalla loro parte. Squadre che sembravano quasi accontentarsi del risultato di 0-0. Questo replay del gol. Una ripartenza perfetta. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Trovano il gol del vantaggio delle fasi conclusive del match. Occhio all'avanzata di Bologna. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. giuricci. Provano l'arrembaggio finale. Sono a meno uno e cercano il pari. Pallone che ha superato la linea laterale. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Recupera in area. Recupera importante. Attenzione. Hanno la possibilità del contropiede. Bologna che ha spazio sulle fasce. grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Ancora due minuti da giocare. Aumenta la spinta dei tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Giocare di fronte a un pubblico. Attenzione alla palla buona in area. Nessun problema qui per il portiere. Finisce il match. Giorno da dimenticare per la formazione di casa. Sconfitta di fronte al proprio pubblico. Sconfitta di misura. arrivata al termine di una partita dove non avevano demeritato. Poteva anche starci il faric. Questa sconfitta però servirà di lezione per non ripetere gli stessi errori che gli sono costati tre punti. Buona la sua prova decisamente. Sopra la media può fare ancora di più. Ovviamente, ma già un buon punto di partenza. È stato autore di una prova generosa. Mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra. Grazie. Grazie.